La tua ragazza ha già tutto e per San Valentino non sai cosa regalarle? Regalale un abbonamento al canale YouTube Svideogame! Dai, ti aspetto! È San Valentino e tu ti sei ridotto all'ultimo a prenotare i ristoranti e ora sono tutti già prenotati. Non c'è più posto! Non ti preoccupare e scarica la app Mi Va Bene Anche Un Cesso Di Locale! Questa applicazione saprà trovarvi dei posti che non sono ancora stati scelti e in più i tavolini per voi avranno la praticità di essere molto vicini ai servizi igienici! Così potrete dire alla vostra innamorata, tesoro, se ti scappa la cacca siamo vicini, hai visto? Ricorda, la app Mi Va Bene Anche Un Cesso Di Locale! E la tua serata non andrà male! It's video game, darling! È San Valentino e stai pensando a cosa prendere alla tua ragazza? Però lei è allergica ai fiori, lei non mangia i cioccolatini perché non vuole ingrassare, L'anno scorso le hai fatto un regalo che non le è piaciuto per niente e te l'ha fatto pesare dicendolo a tutte le sue amiche Si arrabbia se videogiochi troppo e dice che vorrebbe sentirsi più amata quando tu le hai dato il mondo Quest'anno regalale Ciao Ti Mollo! Un simpatico pupazzo molla che ripete tre volte la frase che tu avresti sempre voluto dire Ciao Ti Mollo! Ciao Ti Mollo! Ciao Ti Mollo! Ciao Ti Mollo! Comunque a parte gli scherzi auguro di cuore un buon San Valentino a tutti per chi lo festeggia Ciao da Svideo!